La grande collaborazione, come abbiamo fatto con gli sloveni, la stessa cosa faremo con i croati. Spero quanto prima di andare dal sindaco di Zagabria e cominciare a collaborare. E poi sono convinto, sai, che avremo una grande collaborazione a livello portuale, perché da Spalato, Sebenico, Dubrovnik, a Zara, a Fiume, a Capodistria, a Trieste, Venezia, Ravenna, l'Adriatico diventerà qualcosa di straordinario. Pensa solo alla Dalmazia sotto il punto di vista turistico. Adesso è tutto aperto. E poi finalmente, come andavo a Lugiana a prendere un caffè, adesso vado a Prazo a Rovigno.